Ogni giorno collaboriamo con i nostri clienti e ci confrontiamo con loro per supportarli nelle strategie di evoluzione dei loro sistemi verso il cloud. Per aiutarli abbiamo creato una divisione che si chiama Digital Cloud che disegna per loro strategie su misura, dei veri e propri abiti sartoriali che aiutano tutti questi clienti a cogliere il vero potenziale del cloud moderno. La nostra missione è quella di portare il cloud al centro della strategia del cliente, di renderlo parte del suo business grazie a tecnologie flessibili e scalabili come quella di Microsoft e di portare una cultura DevOps che abiliti ogni azienda a essere sempre pronta al cambiamento.